A chiudere la rassegna con mizi d'amore, concerti e narrazioni, sabato 2 settembre alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana, sarà l'atteso concerto di Elisa Ridolfi e Diego Tancredi, Città do Mare, un concerto racconto fatto di oralità ed esperienze musicali, che attraversa porti e città e arriva anche nella città di Fano. Abbiamo sentito l'esigenza di raccontare in parte anche Fano, perché poi siamo in una città di porto, e quindi la musica dei porti permette proprio questo scambio, questa avvicinanza, cioè il mare che non divide ma permette l'incontro. Questa è un po' la filosofia e dentro questo grande bacino, che sono i porti, abbiamo poi tante lingue, tanti linguaggi, tanti dialetti e raccontiamo un po' questo percorso anche da un punto di vista sia filosofico che proprio letterario e questo, grazie a Diego, era molto importante. Lei ha accolto la mia proposta ed è un viaggio musicale, oltre che narrativo, durante il quale accompagniamo il pubblico tra queste città di porti. Lo stesso titolo, Città do Mare, foneticamente ricorda sia la lingua partenopea, sia la lingua portoghese che fa parte del percorso fadista di Elisa. Elisa Ridolfi, io, il maestro Riccardo Bertozzini alla chitarra classica, il maestro Andrea Toalessi al contrabbasso e per l'occasione avremo il contributo poetico del poeta e regista pluripremiato Andrea Lodovichetti, quindi il viaggio fa tappa anche a Fano e avremo un ospite speciale che è il maestro Massimo Valentini al sassofono. Come sottolinea il direttore artistico Massimo Pugliani, la rassegna comizi d'amore, concerti e narrazioni, è un luogo in cui si uniscono canzoni e racconti, tratti da storie di autori, artisti e affabulatori. Pino Daniele, Massimo Troisi, Lucio Dalla con i suoi narrazioni che riguardano proprio i personaggi tipici e poi in particolar modo c'è stato Roberto Mercadini che ha parlato di fisica e quindi anche in questo caso il soggetto ci ha dato la possibilità di allargare le tematiche, c'era sì l'anniversario della bomba atomica ma il grande affabulatore Roberto Mercadini è riuscito a narrarlo in modo originale. Oggi in particolar modo con l'ultimo appuntamento in programma abbiamo di nuovo messo insieme le scritture che sono le scritture sia delle canzoni di Elisa Ridolfi che sta avendo un successo strepitoso a livello nazionale e poi l'autore che è appunto Tancredi che è riuscito a creare un'attenzione sui porti con un particolare sufano e in più abbiamo la mostra all'estimento di Virginio Ridolfi che il figlio ha voluto darci come omaggio a questo incontro di linguaggi all'interno di Comizio d'Amore in quanto proprio per l'occasione ci sarà anche un rapporto tra la pittura e la fotografia, la pittura e il cinema e in particolare con Wim Wenders che è stato affascinato dall'opera di Ridolfi e allora noi abbiamo messo per omaggiarlo le musiche del film Pari Texas. Bilancio senz'altro positivo per la Rocca Malatestiana di Fano per Mario Rosati vicepresidente cooperativa Opera, la capofila dell'RT che gestisce la Rocca Malatestiana insieme a Copcultura e Nuovi Orizzonti. Un bilancio positivo ma che ha richiesto uno sforzo notevole da parte di tutti noi perché naturalmente la città ha una proposta molto ricca di eventi, si sono aperti anche altri spazi ma noi abbiamo puntato, abbiamo fatto una scelta molto precisa che è stata quella di coinvolgere le risorse, le competenze, il patrimonio della città e quindi cercando e crediamo anche di esserci riusciti di trasformare la Rocca in uno spazio, in un luogo d'incontro per tutta la comunità e quindi ecco perché anche le nostre proposte e in particolare quelle di questa rassegna hanno raccolto un grande successo.